Chi doveva controllare e non lo ha fatto? E che cosa si sapeva a Roma e Milano dei movimenti della periferia, se questi si sono tradotti nel crack del più grande istituto di credito marchigiano, Banca Marche gettando sull'astrico migliaia di risparmiatori? E battaglia sui testimoni per Banca Marche mentre in corso l'udienza e il processo all'interno del Tribunale di Ancona. Le parti civili alzano il tiro e tirano in balo l'ex premier Matteo Renzi, l'ex ministro dell'economia Padoan e poi i vertici dell'Unione Europea a partire dall'ex commissario per la concorrenza fino a Banca Italia, Ignazio Visco. Il vero obiettivo però restano i commissari nominati da Banca Italia. Bocciata la richiesta per la parte politica, no per Renzi, Boschi e gli altri, sfileranno invece i vertici di Banca Italia a partire del governatore Ignazio Visco fino a Giuseppe Vegas, presidente della Consob all'epoca del tonfo di Banca Marche. Via libera anche per i commissari di Banca Italia, Terrinoni, Feliziani e Insitari. Accolta in tal senso la richiesta dell'avvocato Corrado Canafoglia che rappresenta molti dei 3.300 risparmiatori penalizzati dal crack. Un totale di 100 tra testimoni e periti che aiuteranno a ricostruire la stagione più controversa del mondo bancario marchigiano. Il primo a sfilare, il 23 settembre, sarà l'ex direttore Luciano Goffi. A processo 13 persone, tra cui l'ex direttore generale Massimo Bianconi e gli ex presidenti Giuseppe Michele Ambrosini e Lauro Costa. Le accuse vanno dalla bancarotta fraudolenta al falso in bilancio fino all'ostacolo della vigilanza. Novità anche sul fronte delle responsabilità civili. Il collegio dei giudici, presieduto da Francesca Grassi, dopo UbiBanca, che ha acquisito l'istituto di credito ripulito dai debiti, ha escluso responsabilità civili anche per la vecchia Banca Marche, tradotto «Nessuno risarcimento in sede penale si proceda in sede fallimentare». Non è possibile ottenere una dichiarazione di responsabilità di Banca delle Marche, vale a dire, non è possibile ottenere che sia Banca Marche a risarcire i danni causati dagli amministratori. E se non è questa la sede in cui si definiscono le responsabilità civili di Banca Marche? Esattamente. Giustizia la chiedono i risparmiatori. Per i giovani, perché abbiano una speranza per vivere in Italia, dove chi è onesto può camminare a testa alta e a chi è onbenata di guai deve pagare.